Ciao, in questo episodio diamo uno sguardo alle ultime novità introdotte con la versione 1.50 di Sysma Studio che è disponibile tramite Outupdate. Vedremo in particolare le nuove funzioni di comunicazione sicura tra Sysma Studio e il controllore, vedremo delle nuove impostazioni sempre per quanto riguarda la sicurezza nello scambio dati tra il controllore e il mondo esterno e poi vedremo anche una funzione interessante che permette di integrare informazioni prese dal software Aplan. Ma andiamo con ordine, partiamo subito dalle nuove funzioni di sicurezza che sono disponibili, ripeto, con Sysma Studio aggiornato alla versione 1.50 o superiore e con controllori A20 firmware maggiore o uguale della versione 1.49. Quali sono queste funzioni? È stata aggiunta l'autenticazione su base utente, quindi con l'impostazione di nome utente e password per l'accesso al controllore. Preso un controllore nuovo, versione 1.49 o superiore, ecco allora che alla prima accensione, al primo collegamento del prodotto con Sysma Studio saremo obbligati a definire queste credenziali. Nulla vieta poi vedremo di escludere il controllo delle credenziali agli accessi successivi, ma le credenziali verranno comunque mantenute all'interno del controllore. Andiamo a vedere subito in Sysma Studio cosa succede collegando un nuovo controllore A20 firmware 1.49. In questo caso ho un NJ5. Posso creare un nuovo progetto, per esempio utilizzo la funzione di collegamento al dispositivo, scegliendo la connessione diretta via Ethernet. In alternativa potremo usare la connessione Ethernet via Hub, specificando linee in DCP di default, che è 192.168.250.1. Evito di trasferire dal dispositivo in quanto il controllore è nuovo. Quindi vado a collegarmi, imposto un nome alla CPU, ok? Questo nuovo pop-up ci informa che dobbiamo creare obbligatoriamente delle credenziali di amministratore, quindi un nome utente, una password, per poterci collegare al controllore. Quindi anche le volte successive che ci collegheremo al controllore dovremo andare a inserire queste credenziali. Vado per esempio a inserire un nome utente di fantasia, o non troppo, e anche una password che deve avere almeno 8 caratteri. Qua in basso vediamo che abbiamo un flag che ci permette di disabilitare questa funzione. Attenzione, vuol dire che comunque il nome utente e la password verranno scritte sul controllore, ma non verranno richieste. Quindi non è equivalente a cancellare le informazioni che abbiamo inserito qua in alto. Quindi lasciamo, ad esempio, abilitata questa funzione di sicurezza e trasferiamo al controllore queste informazioni. Ovviamente ci ricorda di non dimenticare queste credenziali. Diamo l'ok e questo messaggio ci informa che il trasferimento è riuscito. Riandiamo online e effettivamente ora ci chiede l'inserimento di quel nome utente e password che abbiamo definito prima. Quindi andiamo a inserirli. E solo con l'inserimento corretto di queste informazioni avremo la possibilità di andare online. Come fare per rimuovere la richiesta dell'inserimento delle credenziali? Dobbiamo anzitutto avere le credenziali per poterci collegare online. Successivamente da controllore, dobbiamo andare su sicurezza, impostazioni account utente, rimettiamo la password. Ed ecco che qui abbiamo una serie di funzioni che permettono di andare a impostare, per esempio, un'età alla password o un blocco di funzionamento, quindi un blocco di sicurezza nel momento in cui una persona cerca di accedere ma sbaglia la password. Possiamo disattivare questa gestione ad utenti, quindi facendo il clic su questo flag non andiamo a rimuovere le credenziali dell'utente e amministratore che abbiamo definito prima, ma diciamo il controllore guarda non chiederle ogni volta che andiamo online. Diamo ok, andiamo ancora ok e adesso andando online vediamo che il comportamento è uguale alle versioni precedenti di Sisma Studio. Un'altra informazione, questa gestione a utenti si va a unire, va a completare la gestione di autentificazione a ruoli. Infatti se andiamo su controllore, sicurezza, abbiamo ancora la possibilità di impostare dei livelli di accesso e quindi di richiedere che al collegamento l'utente debba inserire una password e scegliere un determinato livello di accesso che gli consentirà o meno di eseguire delle operazioni sul controllore. Ecco, queste due funzioni possono lavorare insieme, quindi potrei abilitare sia la verifica del livello di accesso, sia anche impostare degli utenti e per ogni utente impostare la password e anche specificare quale ruolo devono avere in base a questi cinque ruoli che sono disponibili. Quindi ecco, attibilitando tutti e due si ha la maggior funzione di sicurezza e di autentificazione possibile, se no si può optare per una o per l'altra. Facciamo un piccolo riepilogo, quindi se abbiamo un controllore con firmware inferiore a 1.49 e anche il progetto caricato quindi è inferiore all'1.49 non abbiamo bisogno di definire le credenziali di accesso al primo collegamento successivo del controllore. Se invece il controllore ha una versione firmware maggiore o uguale della 1.49 e anche il progetto caricato ha una versione maggiore o uguale dell'1.49 ecco allora che la definizione delle credenziali di accesso è obbligatoria al primo collegamento e poi viene richiesto o meno in base alla spunta che abbiamo visto. Infine c'è un caso di mezzo per cui se abbiamo un controllore con un firmware maggiore o uguale dell'1.49 ma il progetto che carichiamo è un progetto diciamo più anziano con una versione firmware inferiore ecco allora che ritorniamo al caso in cui non è necessario impostare le credenziali di accesso. Ipotizziamo ora il caso sfortunato di dimenticarci le credenziali che abbiamo impostato. Quindi se proviamo a collegarci e andare online ecco quindi che avremo il pop-up che ci richiede un mutente password. Ma se noi non le ricordiamo oppure le abbiamo mai errate ecco quindi che l'autentificazione non avviene e non possiamo collegarci in alcun modo al controllore. Per ripristinare la possibilità di accedere al controllore dovremo obbligatoriamente cancellare la memoria del controllore. Per eseguire questa procedura dobbiamo impostare il quarto tip switch fisico presente sul controllore add-on quindi i primi tre add-off e il quarto add-on e una volta riavviata l'alimentazione ci colleghiamo, andiamo online e come vediamo abbiamo la possibilità di utilizzare questa parte per accedere avendo perse le credenziali di accesso accettando con questa spunta accettiamo di cancellare la memoria del controllore. Quindi procediamo con mostrare la finestra di dialogo, cancellare tutta la memoria. e qui possiamo cancellare la memoria. Una volta completata l'operazione rimpostiamo il deep switch numero 4 a off e riavviamo l'alimentazione. Quindi andando online vediamo questo messaggio che ci informa che verrà riavviato il controllore. Diamo l'ok, riprovo ad andare online e qui torniamo alla prima impostazione delle credenziali di accesso proprio come se il controllore fosse nuovo. Quindi conservate il nome utente e la password che è definita la prima volta sennò purtroppo sarete obbligati a cancellare la memoria del controllore. La seconda funzione di sicurezza che andiamo a vedere è la crittografia delle comunicazioni tra il controllore e software come Sisma Studio oppure il pannello operatore NA. Anche questa funzione è disponibile soltanto con i firmware maggiore o uguali alla versione 1.49. Quindi se abbiamo un controllore con una versione firmware precedente non cambia nulla né con Sisma Studio 1.49 neanche con questa versione di Sisma Studio 1.50. Quindi la comunicazione tra i due avverrà sempre in modalità non sicura. Quindi nel momento in cui qualcuno, qualche malintenzionato voglia andare a spiare i messaggi scambiati tra il controllore e il computer con Sisma Studio ecco i messaggi saranno in chiaro, quindi saranno visibili. Se invece abbiamo un controllore con un firmware aggiornato quindi maggiore o uguale all'1.49 ecco che con versioni di Sisma Studio 1.50 o superiori e Windows 10 la comunicazione tra i dispositivi sarà abilitata per default unicamente in questa modalità sicura. Quindi il dispositivo controllore e il PC si scambieranno dei messaggi criptati quindi nessuno potrà accedere a queste informazioni. Le stesse considerazioni valgono anche con il collegamento al pannello operatore NA quindi con firmware inferiore all'1.49 del controllore non cambia nulla le comunicazioni saranno non sicure mentre con firmware maggiore o uguale dell'1.49 ecco che avremo bisogno di un pannello operatore con firmware maggiore o uguale della versione 1.16 per poter eseguire lo scambio di informazioni in maniera criptata. Quindi nel caso in cui avessimo Sisma Studio non aggiornato o su un computer con Windows 7 o 8 oppure un pannello operatore che non soddisfa il requisito di avere un firmware maggiore o uguale di 1.16 ecco che la comunicazione sicura non può avvenire e quindi il controllore di default non sarà in grado di comunicare. Attenzione questo è molto importante soprattutto nel momento in cui c'è bisogno di per esempio di sostituire un vecchio controllore con uno nuovo. Se quello nuovo ha una versione firma maggiore o uguale di 1.49 dobbiamo ricordarci che la funzione di sicurezza di criptografia sarà di default abilitata e quindi i pannelli operatori chiamiamoli più anziani che risiedevano nella stessa rete non avranno più la possibilità di comunicare con il controllore. Andiamo proprio a fare un esempio pratico. Quindi abbiamo un controllore con firma maggiore o uguale di 1.49 lo colleghiamo a Sisma Studio che è stato aggiornato su un computer con Windows 10 ecco che non ce ne accorgiamo nemmeno la comunicazione avverrà in modalità sicura. Nel momento in cui però nella stessa rete avevamo anche un pannello operatore NA più anziano e un per esempio un PC con Sisma Studio con una versione anche superiore all'1.50 ma su un sistema operativo Windows 7 quindi che non soddisfano i requisiti per eseguire una comunicazione sicura ecco allora che dobbiamo trovare il modo per far contenti tutti e far comunicare anche gli altri dispositivi. Il modo diciamo più veloce è quello di abilitare le comunicazioni non sicure sul controllore quindi tramite i deep switch sul controllore è possibile abilitare la comunicazione non sicura quindi il controllore comunicherà in maniera sicura con chi può comunicare in maniera sicura e non sicura con gli altri. Attenzione che ovviamente questo va in pratica ad annullare questa protezione nella segretezza della comunicazione. La terza funzione introdotta riguarda la possibilità di filtrare i pacchetti in scambio quindi tra il controllore e il mondo esterno in base a diverse proprietà quindi per esempio in base all'indirizzo IP del destinatario o della sorgente del traffico in base al tipo di protocollo e alla porta di comunicazione. Spostandoci in Sisma Studio andiamo a vedere in un progetto con un controllore col firmware 1.49 superiore vediamo che nelle impostazioni porta Ethernet IP integrata andando in basso troveremo anche questa sezione filtro pacchetto. Vediamo che c'è la possibilità di usarla o non usarla. nel momento che noi andiamo a specificare USA ecco che dobbiamo compilare questa tabella in modo da inserire tutte quelle comunicazioni che noi ammettiamo quindi tutte quelle che saranno esclusi da queste non potranno avvenire. Attenzione perché tutte le comunicazioni si intendono anche per esempio la comunicazione tra il controllore e Sisma Studio quindi se non andiamo a inserire in queste righe anche il protocollo e la porta utilizzata da Sisma Studio per comunicare col controllore ecco allora saremo tagliati fuori nel collegarci con il controllore. Non mi dilungo sulle informazioni che sono richieste nella tabella però banalmente vediamo che è l'indirizzo IP di origine o di destinazione del traffico il tipo di protocollo e poi la porta o un range di porte in ingresso o in uscita della comunicazione. Ecco su un manuale poi sono specificate quali sono le importe e modalità di comunicazione che devono essere inserite in maniera da garantire per esempio la connessione in maniera diretta o la connessione via hub tra Sisma Studio e il controllore. e queste informazioni dipendono anche se è stata abilitata vedete questo enable se è stata abilitata la comunicazione non sicura tra il controllore e Sisma Studio e in base alla nostra situazione dovremmo quindi andare ad aggiungere queste informazioni nella tabella dei filtri. Qui troviamo invece le informazioni da inserire in base al tipo di protocollo che vogliamo abilitare quindi per esempio se è OPC UAI che vogliamo lasciare aperto ecco allora che dobbiamo inserire una riga in cui come destination port, quindi porta e destinazione dobbiamo andare a inserire 4840 che è quella di default che si imposta tipicamente sul progetto in Sisma Studio oppure se vogliamo per esempio la possibilità dell'FTP server quindi che qualcuno dall'esterno possa accedere i dati in FTP allora dobbiamo inserire la porta 20 o tutte le porte in base alla configurazione dell'FTP client ecco è bene specificare che invece le operazioni che il controllore esegue verso l'esterno per esempio le operazioni in FTP client non vengono filtrate in base alla tabella quindi quella tabella è importante per le comunicazioni in ingresso quindi dall'esterno verso il controllore anche per la comunicazione in E3TP c'è bisogno di impostare relative porte e tipologie di comunicazione andiamo a fare un esempio pratico quindi abbiamo un controllore con firmero 1.49 superiore e vogliamo aumentare la sicurezza della nostra rete in particolare vogliamo evitare che dispositivi al di fuori di quelli che noi vogliamo consentire possono iniziare a disturbare quindi mandare dei messaggi al controllore ecco allora che possiamo abilitare la funzione packet filter e specificare che cosa se vogliamo comunicare con Sisma Studio con versione 1.50 o superiore ecco allora che la comunicazione viene in modalità sicura e quindi dobbiamo inserire la TCP 443 per NA con firmero maggiore dell'1.16 stesso discorso e per OPC UA client che vogliamo si possano collegare al controllore ecco allora che dobbiamo inserire la TCP 4840 andiamo a vedere come si traduce tutto questo in Sisma Studio quindi andiamo nella parte di filtri pacchetto nella prima riga vogliamo inserire la possibilità di poter comunicare con Sisma Studio e col pannello operatore NA che abbiamo visto hanno la stessa porta la TCP 443 come origine e destinazione degli indirizzi IP metto qualsiasi quindi non voglio limitare a un indirizzi IP a un range di indirizzi IP se no potrei farlo cioè potremmo dire da quale PC o quale pannello operatore è possibile comunicare con noi noi controllore come protocollo impostiamo TCP la porta di origine potrebbe essere qualsiasi nel senso che il computer potrebbe aprire una porta diversa da 443 per comunicare con il controllore ma comunque la porta poi che va a richiedere sul controllore è la 443 quindi qui dobbiamo inserire 443 stesso discorso anche per l'OPC UA quindi aggiungo una riga metto origine e destinazione qualsiasi protocollo mettiamo TCP qualsiasi porta di origine ma la porta di destinazione sul nostro controllore ecco allora che deve essere la 4840 quindi trasferendo così avremo escluso le altre comunicazioni che potrebbero avvenire o essere richieste dall'ambiente esterno al controllore infine l'ultima funzione aggiunta in questo pacchetto di aggiornamenti di sicurezza riguarda la possibilità di disabilitare il protocollo E3TP e il protocollo FINS UDP e TCP spostandoci sul progetto in Sisma Studio possiamo vedere che abbiamo nelle impostazioni FINS dell'E3TP queste nuove spunte che è non usare qui per il FINS UDP e non usare qui per il FINS TCP ecco che inserendo queste due non ammetteremo una comunicazione FINS con i dispositivi esterni per quanto riguarda l'E3TP lo troviamo sotto ACIP che vuol dire Common Industrial Protocol quindi l'E3TP possiamo specificare se utilizzare oppure non usare dopo aver visto tutte le funzioni di sicurezza aggiunte passiamo invece al nuovo connettore tra EPLAN P8 e Sisma Studio questo connettore permette di importare da EPLAN che è un software per il disegno di schemi elettrici delle informazioni quali il controllore i moduli I.O. collegati le espansioni collegate e riportarle in un progetto di Sisma Studio quindi ipotizzando di avere un progetto EPLAN abbiamo all'interno le informazioni circa per esempio gli I.O. o anche la configurazione EtherCAT collegata al controllore quello che possiamo fare è tramite una funzione di esportazione creare un file AML che poi andremo a importare all'interno del nostro Sisma Studio con versione maggior uguale dell'OMO E50 impostiamo come lingua di destinazione quella inglese e specifichiamo il percorso dove andare a salvare questo file vediamo quindi che il file conterrà diversi I.O. e una configurazione EtherCAT in Sisma Studio creiamo un progetto con la versione corretta del controllore che abbiamo impostato in EPLAN e negli strumenti andiamo su Automation ML Importa andiamo a prendere il percorso del file e poi possiamo scegliere se importare tutte le informazioni o solamente le variabili per esempio del dispositivo che sono state inserite in EPLAN possiamo importare anche i commenti e possiamo poi per debug andare a vedere delle informazioni più specifiche sull'esecuzione di questa importazione ecco che l'operazione è stata eseguita correttamente vediamo che abbiamo una configurazione EtherCAT in cui abbiamo per esempio anche un accoppiatore ECC203 con la safety e i moduli quindi già importati abbiamo anche il REC di espansione CPU già definito e andando all'interno delle variabili globali troviamo anche le variabili globali già associate agli input e output presenti nel sistema nella finestra di uscita troviamo tutte le informazioni di debug quindi per esempio anche attributi che per esempio non è stato possibile associare che per esempio non è stato possibile